Buongiorno, come state? Quasi venivo fuori il sole, vai mamma, bello, tutti sono a passeggio, ecco bene, bene, vai mamma, fai le grattatine e via, sì. Bene, vai. Vado? Sì, questa lucetta, eccola. Guardati. Vai, vai, strucca, strucca, vai, gratta, gratta e via. Gratta, vai. Sì, aspetta. Vinto, vinto, sette, sette vinto, sette vinto, va bene, va bene, dove sette vinto? Ah, dove sette? Sì, due mamma, non sei sette. Mamma, cara, che foca con i rame. Vai, dai, dai, non importa, tranquilla. Gratta tutto e via. Via, 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 via. Ah, proprio l'ultimo. Ecco. Niente mi pare. E adesso guardatevi. 18. No, guardami, guarda un cattino. E il 16, che se? No, niente. E il 4? No, questo è il 3. E il 4 non c'è, niente. Poi il 2, che se? No, questo è il 3. E dopo il 9, che se? No, niente. E l'8? Niente. Niente? Niente, perso. Via, mamma. Aspetta. Questo qua, ticata verso il finestrello qua. Così. Poi ticata verso il finestrello qua. Così. Poi ticata verso un'altra finestrella. Ticata verso un'altra finestrella. Ai. Qua, così. E così. E così, no? E dopo, gratta questo cos'è? Bonus? Eh. Vai, gratta. Se non mi ricordo, se era tanto che ne toco questo. Aspetta, ferma. Adesso gratta questo, gratta queste e gratta quei. Venti. Oh. Vediamo. Questo. Venti. Vai, vai qua. Gratta qua. Sì. Diciannove. Gratta. Qua. Pronti, 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 pronti. Diciannove. No, mamma, questo. Vai dentro qua. Che si è venito che controlla la finestra. Diciannove ancora. E qua ti fa otto. Adesso non mi ricordo più. Dieci. Fa diciotto. Ti gano a fare il conto qua. Quattordici. Mi sembra che ti dovresti fare di più. Qua ti fa dieci, fa diciotto, però ti fa venti. Nove ti fa quattordici, più otto fa... E meno di ventuno. 21, aspettate a fare 21. 19,8, no, bisogna chiesa, vedrì. Non mi ricordo più. Ehi, ehi. Aspetta, aspetta, che arriva. Bu, due carte gratte in suite alla zona. E infine... Non mi ricordo, non mi ricordo. Guardate. Il totale dei punti. La carta bonus. Superiore al numero nella zona. Praticamente ti fai da fare il conto. Qua ti fa... Quattordici. Più... Diciotto, ventidue. Ventidue è superiore. Questa. Qui va bene. Sedici. Anche qui va bene. Dieci. Fa diciotto. Qua no. Qua pararia bene qua. Sedici. Amici, hai ventuno. Più, oh. Fa ventiquattro. Però non ti vado a superare il ventuno, secondo me. Ah, è inferiore a ventuno, ti vedi? Eh. Eh. E invece ti superi tutti, per cui se... Fardente. Va bene. Salutiamo. No, avete una. Nia una, nia una. Salutiamo. Domani la sfida, domani la sfida. Domani la sfida. Domani spacchiamo i culi. Eccola. Non so se si possa dire. Sì, ormai già fatto. Salutiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Datemi bene. Buone passeggiate. A domani. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.